simpaticissima lavora pausini mentre fa il concerto scende in sala perché un signore sta chattando con il telefonino un attimo vicino a questo signore che è tutta la sera che manda dei messaggi buonasera siccome io purtroppo ho questo carattere sono del toro ecco vedi dico che segno è gemelli ve l'ho detto porca miseria perché me i gemelli mi prendono un po tutti per il culo capito allora sto scherzando sto scherzando però voglio sapere posso sapere che scrive no stavo guardando ma che stai a guardare sei in un concerto il nome delle coniste ah te lo dico subito le ho presentate quando te scrivevi Roberta Granà che è molto brava un applauso a Roby un applauso a Roby e la Galaxy è ancora là adesso non è il mio amore ma ti stai annoiando allora visto che c'è allora è vero è vero allora si è un gemelli ascendente toro è vero Laura Causini parte con il suo world tour sono io c'è anche la cosa quella guarda il signore si sta annoiando no sta cercando il nome delle coriste ma Laura già l'aveva dette mentre lui chattava